Si parte. La prima gara di campionato del ritorno in Serie C di Biancorossi è uno scontro tra matricole. Al Brilli Peri di Montevarchi si gioca San Donato, Tavarnelle e Rimini. Mister Gaburro non può schierare gli squalificati Santini e Laverone e l'acciaccato Loduca. Cinque giocatori della passata stagione e sei volti nuovi nell'undici iniziale dei Romagnoli, con Galeotti tra i pali e Vano al centro dell'attacco. Al quarto d'ora il primo tiro in porta della gara. Tanasa in verticale per Vano, che calcia di sinistro. Cardelli blocca. Al diciottesimo secondo corner per i Biancorossi. Batte Gabbianelli. Gorelli di testa lontana. Raccoglie Tonelli, che salta Galligani e mette al centro. Sponda di testa di Allieve incornata vincente a due passi di Vano. Rimini in vantaggio. Al trentaduesimo Piscitella e Tonelli dialogano a sinistra. Poi Regini va al cross basso. Tanasa calcia. Il pallone smorzato da Gorelli viene raccolto da Cardelli. Al trentacinquesimo Russo da calcio piazzato cerca Brenna. Galeotti attento e anticipa l'avversario in presa alta. Due minuti dopo Galligani in profondità per Russo, che da posizione defilata spara in diagonale. Gran risposta di Galeotti. Il Sandonato calcia tre corner di fila. Sul terzo, battuto da Galligani, Allieve ci mette la testa. Russo calcia di prima, ma non inquadra il bersaglio. Al quarantaquattresimo lancio di Tofanari. Del carro si libera con una finta di Brenna. Avanza verso l'area e cerca Vano. Anticipato dall'intervento di Alessio. Al terzo della ripresa, angolo per il Rimini. Tocco corto di Gabbianelli per Piscitella. Cross immediato, Vano in patta di testa alzando la mira. Al nono, destro di Russo, dei 25 metri. Pallone a lato. Al dodicesimo, sul sesto corner dei Romagnoli, battuto da Gabbianelli, scatta il contropiede dei padroni di casa. Galligani, servito da Russo, avanza, entra in area e anziché servire i compagni va direttamente alla battuta, calciando sull'esterno della rete. Al diciassettesimo corner per i gialloblu. Galligani tocca per Carcani, che pennella in area per l'incornata, prepotente vincente di Gorelli. E' il gol dell'1-1, il primo tra i professionisti del San Donato Tavarnelle. Al diciannovesimo, Regini intercetta un rinvio di Cardelli e serve Piscitella, che si accentra e tenta la soluzione a giro. L'estremo gialloblu si salva. Al ventottesimo, gran palle in verticale di Delcarro per il nonio entrato Mencagli, che solo davanti a Cardelli tenta lo scavino, spedendo a lato. Al quarantaseiesimo, Rosso si lancia da solo in area. Cardelli legge bene le situazioni e lo anticipa. Al quarantanovesimo, Sereni si muove bene a sinistra. Poi tocca di tacco per Pasa, che mette al centro. Cardelli anticipa Mencagli, appostato sul secondo palo. Dopo sei minuti di recupero, arriva il triplice fischio. Finisce 1-1. E domenica il Romeo Neri, arriva il Cesena.